Uomo del parcheggio, misterioso e labile Bisogna vedere per forza il trailer di Kingdom Hearts 4, eh? The Lost Master Arc! Quindi ci dobbiamo aspettare un Kingdom Hearts 4, 5, 6, 7, 7.2 Kingdom Hearts Interprops, preps, 4.cazzi, eccetera, eccetera Non vedo l'ora di tuffarmi nella Lost Master Arc Bello flash di Osade Shibuya Ah sì, perché mi hanno detto, vabbè, non dico nulla, che magari spoiler Il cuore risiede nell'anima, che a sua volta è guidata dal fatto verso il posto che le spetta La supercazzola prematurata nel cuore, con Sora che vive nel cuore per liberare il nessuno che è dentro Il mimic del piscio, perché senza il glutine non può vivere nel cuore della gabbia Perché il carcere è aperto solamente alle ombre nere che si fondano alle bianche Ma non può entrare nel cuore senza il permesso del pisello Ancora una volta la scelta è tua No, è solo tu, Anomura, di fare queste stronzate Ecco quell'altro Eccolo lì Il nostro amico Sora Che è diventato ormai un idol È plastiosissimo però, eh Oh, ecco C'è in Cagnese, spero che abbiano pagato i diritti Bello perché è un mondo pieno di vita, siamo in centro a Shibuya e sono quattro persone No, vabbè, forse non esce buio, però mi fa ridere È pieno di vita, non tre stronzi che girano Ma sembra brutto a livello grafico, no? Boh Non è bellissimo Sembra un fan maid, no? Brutto Madonna se è brutto, raga Piattissimo, i colori spentissimi, tutto rigido Sora non ha ancora imparato a correre Ah, ma è un gameplay Vabbè, è finto, è un gameplay finto Ma cos'è? È diventato God of War Ah, è ok, ci sono... ok Non aspettarti di tornare in quello da... Anche se ti lasci questo mondo alle spalle Non aspettarti di tornare in quello da cui sei venuto Mi raccomando, eh Ho ancora sti cazzo di incappucciati Ma li levate dai coglioni, hanno rotto il cazzo Basta Hanno cambiato il font Non è bellissimo, potremmo lasciare anche quello vecchio Però c'è ancora Disney di mezzo, eh Attenzione Ecco Paperino, vai E Pippo, chiaramente Poi, almeno ci sia Topolino Ma che voce ha Pippo in giapponese? Trivento No, non c'è Topolino Possibile, vediamo Almeno velo, dai Chi è? Magic in the making Sì Ah, ha dei dite Ha dei probabilmente Ok Interessante Veramente brutto Veramente brutto, raga Veramente brutto Brutto, brutto E uscirà nel 2000 mai Non è un gameplay Chiaramente questo È un filmato finto Non è Ade È Axel Lea Grazie Interessava parecchio, effettivamente JTaz dice che è Ade Ah, ok Allora lo do per certificato Impossibile essere obiettivo Eppene cuo È la mia opinione È obiettivo Se vai a sentire l'opinione obiettiva Leggiti un articolo Ti leggi la news È uscito il trailer di Kingdom Hearts 4 Fatto Questo Ecco l'opinione obiettiva Ti dico il mio gusto personale Mi fa ca Cioè È plastioso È freddo Non si vede nulla Non è un gameplay È tutto finto Come il trailer Delle 3 di Kingdom Hearts 3 Boh Non mi piace Mi piace per nulla Quindi staremo a vedere Magari È la tua opinione Se specifichi Se specifichi Secondo te Ah, scusate Ve l'ero scordato Stavolta, eh Sous-titrage Société Radio-Canada